Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Caracciolo, allora Mosca oggi accusa Kiev di una cosa gravissima, di avere tentato di uccidere la notte scorsa il presidente russo Putin con due droni che sono stati abbattuti sopra il Cremlino. L'Ucraina smentisce nettamente, in serata la Commissione europea in una nota dice che il Cremlino non usi presunto attacco droni per escalation, che cosa è successo? Quello che è successo non lo possiamo sapere e non lo sapremo credo mai, ci dobbiamo in qualche modo regolare su quello che dicono i russi e siccome siamo in guerra di propaganda i russi possono, come anche gli ucraini, dire quello che vogliono o quello che serva a loro. Che sia vero o che sia falso quello che dicono i russi, quello che è certo è che dicendo queste cose Mosca si abilita a compiere una rappresaglia simmetrica. È difficile che l'opinione pubblica russa accetti, se prende sul serio la sua propaganda, che un attacco ucraino al Cremlino possa passare come un caso da non punire. Quindi aspettiamoci sicuramente una reazione russa. L'altra cosa è che nel caso invece questo attacco fosse vero ci dice che l'Ucraina si muove ormai abbastanza liberamente, a meno di non pensare che gli americani abbiano dato via libera a Kiev per attaccare Mosca. Ecco, ma Lucio Caracciolo, l'Ucraina dispone di droni che sono in grado di volare dal confine a Mosca che sono in linea d'aria circa 450 chilometri che consentirebbe di colpire appunto Mosca e Putin? Certamente sì. Gli ucraini hanno colpito tempo fa una base, la Engels 2, vicino a Saratov nel medio corso del Volga, distante circa 700 chilometri dal confine ucraino. Certo non sono droni che vanno e vengono, sono droni kamikaze imbottiti di esplosivo che colpiscono il bersaglio e muoiono lì con le perdite che infliggono. Però tecnicamente è un'operazione possibile, d'altronde non è la prima volta che gli ucraini attaccano il territorio russo, certo attaccare il Cremlino se effettivamente è accaduto è un cambio di passo per usare un termine gentile. Ma con l'avallo degli americani? Qualora fosse questa la versione veritiera? No, ma d'altronde non credo che... Allora abbiamo già visto che molte volte gli ucraini hanno fatto delle cose senza dirlo agli americani e a quanto pare non hanno nemmeno molta voglia di raccontare agli americani come stanno propagando, come stanno preparando l'attacco, la controoffensiva contro la Russia. Questo evidentemente significa che per quanto l'America abbia potere di persuasione non ha potere di controllo assoluto sull'Ucraina e d'altronde l'Ucraina sentendosi vitalmente minacciata si considera abilitata a fare quello che crede. Abbiamo visto che Zelensky nella sua smentita ha detto che l'Ucraina non ha mai attaccato la Russia, questo non è vero, ovviamente sappiamo che ci sono stati molti attacchi anche recentemente, ma ripeto, una cosa è attaccare il territorio russo vicino o lontano dal confine ucraino, una cosa è attaccare il simbolo del potere russo e quindi minacciare in teoria la vita di Putin che però come sappiamo era altrove, anche perché lui spesso marina il Cremlino. Quindi siamo di fronte a una drammatica escalation della guerra in Ucraina? Siamo di fronte alla possibilità di una escalation in caso di forte rappresaglia russa. Non dimentichiamo che il 9 maggio è prevista l'annuale parata della vittoria, quella che celebra la vittoria dell'armata rossa su Hitler nel 1945, un evento particolarmente sentito in tutta la Russia e il fatto che siamo ormai alla vigilia di questo e che a quanto pare, quello che dicono i russi è questo, i droni ucraini sono capaci di colpire la piazza rossa, vi rendete conto che il clima è piuttosto caldo? Assolutamente sì. Stefano Massidi.